A Fornelli domani tornano le giornate al borgo. La rievocazione storica in uno dei borghi più belli e meglio conservati d'Italia è alla 26esima edizione. Nella due giorni che precede il Ferragosto, quell'area del paese, peraltro viva e frequentata tutto l'anno, si accenderà ancora di più con una serie di manifestazioni a tema. Dal corteo storico alla suggestiva esibizione dei pistonieri intenti a sparare con gli arcaici e archibugi, al palio delle contrade in pieno spirito e ambientazione medievale e poi concerti, allestimenti antichi e spettacoli di strada con l'evento finale, clou della manifestazione di cui ci dice il sindaco Gianni Tedeschi. L'evento clou sarà l'incendio del castello che concluderà la manifestazione, però sono tanti gli spettacoli, i nuovi spettacoli che sono stati previsti per quanto riguarda anche le rappresentazioni all'interno del borgo, quindi per quanto riguarda anche i costumi d'epoca. Quindi è stato fatto un bel lavoro da parte della Proloco e con l'ausilio sempre con il patrocinio della regione e con il comune che non fa mancare mai il suo apporto. E stando alla grande crescita delle interazioni online sui social rispetto alle passate edizioni, gli organizzatori della Proloco si aspettano una ripartenza da record in termini di presenza e quanto rimarca il presidente Stefano Apollonio. Stiamo avendo molte più interazioni rispetto al 2019 e agli anni precedenti e quelle credo che siano già indicative della possibile affluenza che potremo avere. Quindi credo che sì, sarà un'edizione in cui sarà tanta gente, purtroppo c'è l'unica variabile è quella del tempo che non possiamo controllare, però noi cercheremo comunque di farci trovare pronti. Importante il supporto alla manifestazione offerto dalla regione, questo perché eventi come le giornate al borgo di Fornelli sono in perfetta sintonia con la mission dell'assessorato al turismo e alla cultura, tesa alla promozione del Molise attraverso la storia, le tradizioni e, in una parola, la cultura, tratto distintivo dei suoi territori. Quest'anno il bando turismo e cultura è diventato cultura e turismo e cioè vogliamo valorizzare le bellezze storiche della nostra regione attraverso gli eventi. Le due giornate qui a Fornelli sono estremamente interessanti perché è uno dei borghi più belli d'Italia, per cui ci saranno due giornate di visita nel centro storico del borgo di Fornelli, straordinariamente bello, ricco di eventi e di manifestazioni e quella è la mission di cultura e turismo. Grazie a tutti.